Ecco cosa rimane dunque del negozio Figli dei Fiori in via Borgovico a Como, come potete vedere i segni dell'incendio devastante sono ancora ben evidenti, il negozio ovviamente chiuso oggi, i danni sono ingentissimi, stanno cercando di sistemare tutto, i titolari. L'incendio questa notte, proprio nel corso della notte, è impiegato per molte ore i vicini del fuoco a cercare di domare le fiamme. Le cause ancora non sono state precisate, potrebbe essere stato un cortocircuito, ma non escluso anche il gesto doloso. Grazie.